Michele Gianella Revisore Signori e signori, buonasera e benvenuti a uno degli eventi più attesi di tutto l'Internet Festival. Allora, so che alcuni di voi hanno già ricevuto delle indiscrezioni su cosa avverrà questa sera, ma per tutti gli altri è giunto il momento di svelare la sorpresa. Certo, tutti di voi usate Internet. Che cos'è Internet? È quel posto dove molti di voi leggono i quotidiani, altri invece trovano ricette di cucina e altri poi cercano invece dei siti più piccanti, insomma, vabbè, ci sono ora anche i bimbi in sala, non voglio. Ecco, Internet non è soltanto questo. Certo, tutti sapete anche che cos'è un social network. Ecco, i social network sono quei siti come Facebook o Twitter, dove molti di voi hanno ritrovato dopo molto tempo il vecchio compagno di scuola, altri invece lo usano per trovare nuove amicizie, magari anche nuovi amori. Altri poi usano questi social per parlare di politica e altri invece cercano sempre quei siti più piccanti, spesso le due cose vanno anche a braccetto. Ma comunque, ma comunque, intanto una spiegazione. Perché la serata si intitola Marx Reloaded? Allora, dovete sapere e certamente saprete che il web è popolato da persone comuni, ma anche da personaggi famosi. Alcuni sono veri, altri sono finti. In gergo, vengono chiamati fake. Questi fake, in pratica, sono costruiti dai loro autori per divertire il pubblico e in qualche modo anche per parodiare, fare una parodia e prendere in giro il VIP che stanno imitando. Allora, noi di Internet Festival, insieme a Giovanni Guerrieri dei Sacchi di Sabbia, a Matteo Pelliti, a Paola Vago, ai blogger dei Diecimila Me, che ora sono tutti rinchiusi qui nella cabina, che questi sono test pensanti, stanno tutto il giorno su Internet. Insomma, noi di Internet Festival eravamo in cerca per il web di un profilo fake di Karl Marx. Ecco, avete capito proprio bene, un profilo falso di Karl Marx, qualcuno che durante questa serata ci aiutasse a parlare con simpatia, per scherzo, ma anche un po' sul serio, dei problemi del lavoro, purtroppo della disoccupazione, di politica e riforme. Quindi, andando in giro per il web, alla fine abbiamo trovato questo. Ecco, ecco, lo vedete? Ecco, ecco questo è il profilo, vedete la faccia di Marx, la barba, questo rosso cupo, anche un po' simboli di un'ideologia ormai superata, diciamo, anche se mi dicono devo essere neutrale, vabbè, devo essere neutrale. Comunque non voglio apparirvi in nessun modo liquidatorio o influenzare il pubblico in sala. Ecco, una cosa che voglio notare, notate i 15.000 follower, 15.000 seguaci. Questo vuol dire che ci sono almeno ancora 15.000 comunisti nel mondo. Certo, non saranno i 4 miliardi, però è un numero abbastanza significativo. Diciamo che potrebbero riempire tranquillamente l'Arena Garibaldi, il nostro stadio cittadino. E comunque, vediamo anche questi follower, chi sono? Se alcuni li vedete? che è, ecco, Ivan Zazzaroni, questi sono personaggi, oh, ma che si scherza, Michele Di Salvo, che è, Roy Paci, musicisti, anche fra i follower, Parlamento Europeo, è quello che c'è sempre, Dante Alighieri, vabbè, andiamo avanti, Contini Marco, Gazzetta del Lavoro, insomma, ce ne sono. Ecco, Marco Taradas, che, vabbè, insomma, ci sono i follower. Ha messo per ultimo, Marco Taradas, è di Livorno, quello è a Livorno. Vabbè. Alla fine, quindi, cari signori, caro pubblico, ci siamo un po' insospettiti. E non certo io, ma gli autori, che questi sono persone, ho detto, intelligenti, sempre su internet, tutto il giorno stanno, vanno anche loro su quei siti che dicevo prima, però ci siamo in qualche modo insospettiti. e dopo lunghe ricerche, alla fine abbiamo scoperto che questo account non è un fake. Eh sì, cari signori, questo account non è un fake, non è falso, ma è gestito niente po' di meno che dall'unico, vero ed inimitabile Karl Marx in persona. Ecco, vi presento anche la nostra orchestra. Paolo Piwi Durante, l'orchestra Tascabile. Questo ti entra nel bagaglio a mano della Ryanair, proprio, tra l'altro, dopo lunghe trattative, stasera l'abbiamo sottratto al Teatro Verdi, nel Don Giovanni, perché faceva tutti gli orchestrali e anche le voci dei cantanti e delle cantanti. Comunque, riprendiamo il filo del discorso. Ci siamo insospettiti, abbiamo scoperto che il sito, l'account è gestito da Karl Marx in persona. Allora, certo voi direte, vabbè, direte non è possibile, l'età è passata. Sapete che la medicina ha fatto miracoli, eh? E quindi anche Marx in qualche modo si è mantenuto. No, alcuni del pubblico dicono, allora, se campassero così a lungo anche i politici di oggi, no, vabbè, 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 lasciamo perdere questo. A questo punto, cari signori, chiedo però a tutti, e dobbiamo fare tutti, uno sforzo collettivo per cercare di far apparire il vero Karl Marx, anzi, lo diciamo proprio alla Toscana, alla Pisana, Carlo Marx, qui tra noi. Ecco, un'indicazione per i cellulari. Vi prego di tenerli accesi. Non è come si fa di solito a teatro. Questa volta li dovete tenere accesi. Anzi, chi l'ha spento lo riaccenda, quell'ignorantone, diciamo così. E qui voglio essere preciso. Dobbiamo invocare Karl Marx con un tweet e con l'hashtag cancelletto if Marx, non so se qui appare qualcosa, comunque cancelletto if Marx, e la frase Marx torna tra noi. Quindi, se avete uno smartphone o un tablet, smizzarritevi. Marx torna tra noi. Chi poi fra voi si può sentire più creativo può dire anche altre cose. Marx ritorna, Carlo ci manchi, Carlo sta a casa, aspetta te, insomma, vedete un po'. Chi invece fra di voi non lo volesse, qui siamo in democrazia, può scrivere, stai a casa, ritorna, baffone non deve venire, insomma, quello che vi parlo. Allora, vediamo i risultati in tempo reale. Bravo, fai il sottofondo. Insomma, i tweet stanno aumentando, sì, qui scrivono, ancora scrivono, il comunismo non ha fallito, vedo, sì, va bene, va bene, diciamo che quasi ci siamo, ci siamo, direi che va bene, mi sembra che sia creata una giusta atmosfera, anche in sala, quindi, prego maestro, eccolo, 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 signori, signori. dunque, buonasera, lei, mi scusi, sono anche un po' emozionato, non credo, è Karl-Heinrich Marx? Sì. gestisce lei questo account twitter, chiocciola if Karl Marx? Sì. Mi permetterebbe un selfie. mi scusi, ecco, 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 no, perché c'ho quello con Albano, e volevo, bene, 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 allora, iniziamo con la vera e propria intervista, intanto mi tolga una curiosità, lei riceve molti tweet che parlano del mondo del lavoro, lamentele, sollecitazioni o consigli, oppure riceve anche rimostranze verso il suo pensiero? Sì, sì, ne ricevo molti, così tanti che alcuni non hanno neanche il tempo di leggerli, poi sa, non ci vedo tanto bene ormai, certe volte è faticoso, però non me la passo tanto male, no? Che ne dice? Eh sì, la vedo bene. Sto meglio di Hegel, lei mi conferma che Hegel è ancora morto. Hegel, Hegel, che è morto, Hegel è morto, ci ha lasciati parecchio tempo fa. Scusate, mi domando perdono per il piccolo sfogo personale, sa, secondo Hegel, il razionale è reale e il reale è razionale. Bella forza, lui aveva uno stipendio fisso. Ma parlavamo di Twitter, giusto? Giusto, giusto. A qualcuno rispondo, altre volte ritwitto, per lo più articoli di natura economica, che per dirla francamente spesso sono molto confusi. Vabbè, il mondo è diventato un po' più complicato rispetto ai miei tempi. Guardi, mi sembra di ricordare di aver finto la mia morte nel, aspetti, aspetti, che giorno era? Sì, il 14 marzo del 1883, pensi, a soli 63 anni. Quindi lei ha finto la sua morte? Sì, certo. Mi hanno fatto un contratto a tempo post-datato. Ho finto la mia morte prima che tutti mi copiassero l'idea. Lei capisce, Elvis Presley, Jim Morrison. Volevo vedere se gli altri avevano capito e apprezzato i miei trattati economico-filosofici. Sa, sono bravi tutti a farti i complimenti finché sei vivo. Però, signor Carlo, non deve essere stato facile fingere la sua morte. Alla fine, poteva anche andare in pensione. La pensione! Una volta si poteva fare. Pensa se ci avessi provato oggi. Qualcuno in sala ha detto Fornero? Fornero, Fornero. No, non credo. Non so, non conosco. Oggi cerco di rispondere al tweet come posso e poi ho un problema, un problema di misura. Cioè? Cosa intende? Cioè? No, intendo dire come faccio a fare entrare un pensiero come il mio in 140 caratteri. È giusto, anche quello è vero. Come posso riassumere le mie teorie, le mie riflessioni filosofiche ed economiche in una frase di soli 140 caratteri? È vero. Il capitale in 140 caratteri? Cosa diventa? No, lo dica lei, lo dica lei. Cosa può diventare? Lo so, lo so. Glielo dico io, gli 80 euro di Renzi. Eh, gli 80 euro di Renzi. Però, signor Carlo, lei li ha presi gli 80 euro di Renzi? Certo che li ho presi. Ho preso solo quelli. Ah. Tutto il resto era trattenuto in tasse. Ma gli 80 euro? Sì. Non è facile arrivare alla fine del mese con soli 80 euro. Ma sa, io ho una certa esperienza nel campo della sopravvivenza. E poi diciamo che Twitter è gratis. Sì, è gratis. Sì, sì, è un grande vantaggio. Ma è un mezzo a cui mi costringo anche se non fa per me. Ammetto che non sono riuscito a resistere al richiamo del social per tornare a cavalcare le battaglie per i lavoratori, per gli affitti, per il proletariato. ma poi basta. Dopo social non c'era più nulla. niente ismo, capisci? Eh, sì, sì, no. E neppure ism, ho provato a cercarlo anche in francese, ma neppure ism sortiva risultati. Ora mi trovo qui bloccato in questo social senza ismo, dove gli sfruttati non combattono gli sfruttatori, ma anzi ne tessono le lodi. Finalmente ho trovato lavoro, esulta uno, devo solo trovare i soldi per pagarmelo. Certo. Ho scritto pure una lettera a Engels giorni fa, sa, per chiedergli aiuto. E Engels le ha risposto? Certo che mi ha risposto. Che domande. Sta benissimo anche lui. Senta. Carl, amico mio, finalmente ritrovato, non ti preoccupare. Anch'io, nei primi momenti del mio risveglio, due giorni o due anni fa, quantificare il tempo mi è difficile in questo luogo, ho passato attimi di sconforto e sbigottimento. Ma se siamo ancora qui, se qualche forza superiore ha voluto che fossimo ancora con il popolo, vuol dire che il popolo ha ancora bisogno di noi. Guardati attorno. Non vedi che pure la barba è tornata di moda? È vero. È cambiata il linguaggio, certo, ma i bisogni sono sempre gli stessi. Dovresti imparare a farti i selfie. Valgono più loro di mille parole. Ah, Rosa, la cara Rosa, ho sempre saputo che avevi un debole per la sua dialettica, ma è cambiata. Non è più lei. Le ho chiesto l'amicizia su Facebook e mi ha bloccato. Pare stia tutto il giorno su WhatsApp con Bakunin. A presto, amico mio. Ora che siamo di nuovo insieme saremo più forti, come Batman e Robin. Post scriptum. Hai mai sentito parlare di Che Guevara? Fa delle bagliette strepitose. Ne voglio una. Mi sembra tutto corretto, però ecco, lasci che almeno stasera pensiamo noi, con lo staff di Internet Festival, al suo profilo Twitter. Lei si metta comodo e cerchiamo di rispondere insieme alle domande che arriveranno dalla rete. Sì, sì, ho bisogno di domande. Rispondere a tutti i miei quasi impossibili. In qualche modo però faremo. Bene, grazie. A un ragazzo che mi chiedeva se dovesse accettare o meno un lavoro non ritribuito, ho risposto che poteva certamente farlo a patto di rinunciare all'uso della logica classica. Non sono certo che abbia capito la mia risposta. Allora, abbiamo subito il primo, la prima domanda. La leggo insieme a lei. Che ne pensi, Carl, delle tutele crescenti, ammortizzatori sociali, della CIG, delle Aspi? Mi dà del tu un compagno, vero? Un compagno, sì. Allora, caro compagno, penso che con questi nomi, più che la riforma del lavoro, sembra la pubblicità di un'automobile. ma poi mi piacerebbe sapere chi è stato il primo a chiamarlo ammortizzatori sociali. Se ne sarà anche compiaciuto il tizio di una pensata del genere. Ammortizzatori, avrà detto, come quelli della macchina, che se prendi una buca non ti rompi la schiena, capito? Però, mettermi un ammortizzatore sotto il culo non serve a niente. Perché chi è la guida oggi non sta prendendo buche. Sta proprio per sfondare il guardrail e finire giù nella scarpata. Certe volte, più che un ammortizzatore, servirebbe un seggiolino iettabile. Fermate il mondo, voglio scendere! Giusto. Carl, qui chiedono... Prego, prego. Applaudite, eh. Anche questo è un altro compagno che gli dà del tuo, eh, glielo dico. Bene. Carl, cosa pensi del rapporto tra lavoro e capitale? Carissimo compagno, a giudicare da come siete messi voi oggi i rapporti tra lavoro e capitale li descrive meglio di me il Kama Sutra. Ecco. Allora, questa è attuale, proprio si parla della stringente attualità. Ciao Marx, anche questo. Qual è la tua opinione sulla riforma dell'articolo 18? Esimio compagno, questa riforma dell'articolo 18 è una vera e propria lotta di classe al contrario. Eh. nel senso che è fatta da dietro e poi se avessi saputo che bastava un solo articolo a difendere i lavoratori non avrei passato tanto tempo a scrivere. Ecco, ecco. Giusto. Allora, Sottilette Craftwork le chiede salve maestro, questo è più formale, qual è la sua opinione sulla caduta del muro di Berlino? La caduta del muro di Berlino doveva portarvi la pace del mondo e invece Toh! Ha portato solo nuovi fan ad Albano. Eh, va bene. E poi, a dirla tutta, penso che il comunismo abbia perso l'ultimo briciolo di credibilità quando il coro dell'Armata Rosso dell'Armata Rosso ha preso Toto Cutugno a cantare. Eh, va bene. Allora ancora, Elena chiede ciao, Karl Marx, la bandiera rossa è ancora un simbolo attuale? La bandiera rossa è il simbolo della nostra lotta, lo standardo del nostro sacrificio. Ma, coi tempi che corrono, bisogna ricordarsi di lavarla in acqua fredda a 30 gradi, altrimenti stinge. E questo è vero. ora non so se sia un segnale positivo o negativo ma oggi ho sentito un tizio al bar che ordinava una bandiera rosè. Eh, va bene. allora Giulio Andreò questo sarà un fake davvero come si fa a distinguere un vero comunista? È facile distinguere oggi i veri comunisti li distingui perché sono sempre quelli bravi a fare le divisioni. Eh, va bene. Avanti, ecco. Casa allora, qui scrive Casaleggio che se non è un fake sarà il vero Casaleggio e dice contattare Karl Marx, ci penso io, chiedergli opinione su Bertinotti e D'Alema. Prego. Bertinotti ha regalato al comunismo la sua grande vittoria cioè lui è passato al liberismo. Eh. E per quel che riguarda D'Alema sì, sì, un socialista può avere una barca a vela però per coerenza deve ospitarci un sacco di gente. Mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Marx ci dica la sua sulla riforma del lavoro attualità. Credo di avere capito il vostro mercato del lavoro. Lo riassumerei con questa frase uno su mille ce la fa. Eh, vabbè. Ormai il mondo del lavoro è un enorme puzzle. Voi siete i pezzi che non si incastrano da nessuna parte. Secondo me una buona riforma dovrebbe soprattutto comprendere le ferie pagate per i disoccupati. anche perché se la disoccupazione continua ad aumentare fra poco nessuno potrà più permettersela. È giusto. È giusto. Ancora avanti ancora avanti. Ciao Carl cosa ne pensi a posteriori del tuo capitale? Stai forse lavorando a una nuova edizione chiedo, no? Questi sono proprio diecimila me che questi sono cervelloni che chiedono. Avevo una visione della società talmente romantica che adesso ho paura di trovare frasi del capitale nei baci perugina. Comunque sì sto lavorando a una nuova edizione del capitale e ho già chiesto che venga aggiunto un intero nuovo capitolo intitolato cosa di sinistra due punti pensarle dirle ma soprattutto farle. Ecco ecco un applauso ecco un applauso io la ringrazio molto per questa ecco vede qui c'è il nostro selfie questo poi anche lei lo conserverà credo comunque la ringrazio soprattutto una definizione perfetta facevamo meglio noi col daguerrotipo bene bene complimenti allora intanto ricordo a tutti al pubblico in sala che è possibile rivolgere delle domande dirette a Karl Marx in persona direi che avete stasera un'opportunità unica per confrontarvi col grande padre del comunismo sì certo però se mi permette vorrei fare prima io una domanda a lei ah certo sono onorato lei non è Fabio Fazio vero? no no io mi chiamo Marco non sono Fabio Fazio no no ecco perché che è successo qua? la tecnologia beh Fazio si tinge anche i capelli ecco vedi perché dai modi un po' sembrava sì ma non si offenda io non dimentico mai un volto ma nel suo caso farò un'eccezione la ringrazio andiamo avanti pure andiamo avanti ecco arrivano alcune domande non via Twitter e qui abbiamo un po' una sorpresa signor Carlo arrivano direttamente da un filosofo un mass mediologo che è presente questa sera in sala e lo vorrei fare avvicinare al palco Derek Decker Cove facciamo un bel applauso anche da qua può fare se si sente prego un grande onore veramente un piacere emozionato siamo tutti un po' emozionati allora il signor Derek la chiamo così ormai ho un po' confidenza con tutti se si sente vediamo se anche il pubblico sente provi a rivolgere a Karl Marx la prima domanda allora essendo il fatto che adesso abbiamo tutti accesso a internet e non fare tutte le cose se vogliamo in questa situazione che riviene il potere dell'operaio quando lui ha immagini di produzione e di distribuzione ecco succede che sfruttato e sfruttatore coincidono almeno fino a quando così mi dicono dura la batteria dello smartphone o del tablet grazie per la sua domanda brillante prego prego continui allora secondo me anche io prenda il suo tempo la società civile non elimina la lotta delle classi non sembra non esserci più classi devo constatare con stupore piuttosto che avete solo sostituito la lotta di classe con la lotta dei sistemi operativi dentro i telefoni in fondo non mi sembra un grande progresso però c'è una novità nel mondo dell'economia il valore di scambio adesso che abbiamo l'economia del sharing come si cambia l'uso e il cambio guardi io non ne ho assolutamente idea mi capisca però credo che i comunisti possono ancora riassumere le loro teorie in una sola proposta abolizione della proprietà privata e vedo che in molte città si è appunto diffuso un sistema chiamato car sharing non è la stessa cosa in fondo giusto grazie attuale 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 avanti avanti ancora ancora la serata è lunga ha smesso anche di piovere avanti avanti che forma prende adesso il proletariato no no risponda lui risponda il signor guardi guardi le posso dire questo il proletariato è scomparso ma sono molto aumentati i poveri strano paradosso non è vero però permetta anche io una domanda perché voi comunisti rispondete sempre una domanda con un'altra domanda e perché non dovremmo vabbè allora vabbè ha capito ancora l'ultimo questo è veramente per lei ah per me sì 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 ma io sono siamo del pubblico noi certo allora ne pensi che internet sta prendendo un posto della religione come opione del popolo ecco è per me dice se internet è diventato l'opio del popolo vabbè sì sì è per l'opio del popolo direi che senz'altro è l'opio del popolo io voglio in qualche modo ringraziare c'è un problema se posso intervenire una piccola osservazione paradossale sì sì il problema è che in internet e attraverso skype non si possono condividere le canne è difficile fumarsi l'opio la sottolineatura mi sembra e quindi vorrei in qualche modo anche ringraziare il mass mediolog Derek De Kerkhove la ringrazio e arrivederci grazie della partecipazione bene grazie allora andiamo avanti ecco signor Carlo quello che alla fine volevo farle anche io una domanda si accomodi io non sono istruito mi ero un po' informato e mi sono ho studiato per fargli questa domanda me la sono anche scritta pensa che il comunismo abbia fallito e il capitalismo abbia vinto vai col tempo no il comunismo non ha fallito ha giocato in un girone sfortunato vabbè e poi d'accordo magari il capitalismo ha vinto ma se ha vinto ha vinto a tavolino ma vi siete accorti che il premio eravate voi di questa partita però la nostra è una repubblica fondata sul lavoro lo dice la costituzione vai col lino di mameli è l'articolo uno della vostra costituzione alla parola lavoro aggiungerei le virgolette e poi mi stupisce che il primo articolo non sia già stato cambiato in complimenti per aver acquistato questo libro viviamo in un tempo di grandi illusioni collettive cosa intende dire ma caro amico le miriadi di schiavi servi e di artigiani di muratori di soldati carne da macello di trasportatori di contadini le loro vite dure le loro sofferenze sono rimaste nelle cronache al massimo come statistiche la grandezza della loro opera è stata rubricata d'ufficio nelle glorie dei potenti ci sono operai che vogliono i figli laureati perché non facciano una vita di sacrifici e di fatti dopo la laurea i figli cercano un posto da operaio questa però se mi permette mi sembra una visione troppo catastrofista niente affatto amico mio dopo le grandi rivoluzioni che da quella americana 1776 in avanti hanno proclamato l'uguaglianza abbiamo pensato che questo stato di cose questa ingiustizia sarebbe terminata si è trattato in gran parte di un'illusione temporanea invece tempo fa sulla prima pagina di un quotidiano ho visto la riproduzione di un foglietto vergato in cinese apparentemente da uno schiavo condannato ai lavori forzati un messaggio nella bottiglia che denuncia le condizioni disumane in cui versa e che ha impiegato anni a giungere fino a noi se è cinese sono amici suoi diciamolo ma quali amici amici l'abbattimento vertiginoso dei diritti di standard dei diritti sul lavoro è da lungo tempo la spia di una vocazione irreprimibile dell'economia neoliberista e la Cina a dispetto del suo partito comunista al governo ha sposato con passione i metodi del peggior turbo capitalismo che le macchine potessero rubare all'uomo era ragionevole ma che i cinesi lo rubassero alle macchine non me lo aspettavo proprio a considerare i salari dei lavoratori e le condizioni del lavoro pure variabili economiche sulle quali è lecito agire con il massimo cinismo la massima spietatezza pur di ridurre i costi e incrementare i profitti senta mi permette di recitarle e di recitare a questo magnifico pubblico le parole di un grande scrittore che spiega meglio di me come la pensa il pubblico è tutto suo Tebe dalle sette porte chi la costruì ci sono i nomi dei re dentro i libri sono stati i re a strascicarli quei blocchi di pietra Babilonia tante volte distrutta chi altrettante la riedificò in quali case di lima lucente d'oro abitavano i costruttori dove andarono la sera che fu terminata la grande muraglia i muratori Roma la grande è piena di archi di trionfo su chi trionfarono i cesari la celebrata bisanzio aveva solo palazzi per i suoi abitanti anche nella favolosa atlantide la notte che il mare l'inghiottì i cittadini affogavano urlando aiuto ai loro schiavi il giovane Alessandro conquistò l'India da solo Cesare sconfisse i galli non aveva con sé nemmeno un cuoco Filippo di Spagna pianse quando la flotta gli fu affondata nessun altro pianse Federico II vinse la guerra dei sette anni chi oltre a lui l'ha vinta una vittoria ogni pagina chi cucinò la cena della vittoria ogni dieci anni un grand'uomo chi ne pagò le spese quante vicende tante domande che ne dice le è piaciuta no mi è piaciuta moltissimo bella questo è baricco no che ridete no è Bertolt Brecht ma mi scusi lei è proprio sicuro di non essere Fabio Fazio non sono Fabio Fazio ma andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti ancora una domanda da Twitter eh da Twitter allora dice vabbè vabbè ecco facciamo no la lista Tsipras dice vabbè questa è improvvisata eh questo è improvvisata questo non è un Twitter questa è una pugnalata alla schiena eh vabbè vabbè ma sì sì d'altra parte è un po' avanti vabbè se volete apriamo un dibattito non mi tiro mai indietro io non scappo apriamolo dice no io andrei avanti andiamo avanti qui parla dei secessionisti della Lega Nord ah la Lega Nord qui qui anche qui che cos'è questa roba ma in Toscana quasi niente diciamo eh non parliamo parliamo chiaro comunque andiamo ancora avanti ancora una domanda che li voglio fare io un po' di attualità diciamo che se ne parla in questi giorni il telegiornale cosa ne pensa del TFR in busta paga sì no lo prendo prima lo prendo dopo ho sentito di questa cosa voi dovreste rovesciare decisamente il modo che avete di vedere le cose pensate sempre alla fine in questo nostro eterno tramontante occidente pensate al trattamento di fine non pensate mai abbastanza all'inizio a chi una paga dove metterci il TFR non ce l'ha neppure allora allora io propongo il TIR per tutti il TIR trattamento di inizio rapporto cioè un reddito di cittadinanza cominciamo da qui qui dice riguardo il problema dello sviluppo demografico e del controllo delle nascite possiamo cominciare a mangiare i bambini dice è una vecchia proposta è una vecchia proposta la fece già Jonathan Swift sì 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 e oramai roba passata non ha funzionato ci sono altri modi più efficaci di liquidare i bambini come le guerre umanitarie certo è giusto anche questo allora signor Carlo mi era arrivata una domanda un po' complessa e questa me la sono segnata e la voglio leggere diciamo che io non l'ho proprio capita comunque cerco di reggere a lei vediamo se lei risponde ogni giorno miliardi di persone passano ore e ore su piattaforme sociali che commercializzano i dati estratti dai loro messaggi dai loro video dalle loro foto si chiede questo che fa la domanda tutto plus valore non retribuito plus lavoro plus valore non retribuito come mettere in atto delle azioni collettive di riappropriazione senza cadere nella trappola della società salariale è complessa è complessa il lavoro è una fonte di ricchezza ecco se avvito un bullone per montare una ruota e sopra ci monto un cerchio questa risposta che mi avete scritta non l'ho capita bene la dico uguale la dico uguale sì questa è la parte delle cose non capite insomma mi impegno per recitare diciamocelo fra di noi certo ma magari il pubblico in fondo in fondo da giovane era un gran talento ma c'è un uomo di temperamento mi picchiavo anche nelle osterie no sappiamo la sua biografia certamente allora se avvito un bullone per montare una ruota e sopra ci monto un cerchione e poi un altro bullone sopra il cerchione dentro la ruota sopra il bullone e poi monto i vetri la carrozzeria ancora bulloni 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 e alla fine ci passo una mano di vernice alla fine cosa guadagno due ruote e un bullone eccoci ma se avvito dieci bulloni e giù altre ruote altri cerchioni altri bulloni ancora vetro lamiere bulloni 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 e tanta altra vernice alla fine cosa guadagno la prima delle dieci automobili che ho montato sempre che la Trabant si possa davvero definire un'automobile è giusto per i più giovani la Trabant era un prodotto glorioso della Germania comunista DDR ed era una macchina fatta di un materiale misterioso so che un mio amico tedesco della DDR una volta vide un paio di maiali che mangiavano la carrozzeria della Trabant per cui posso dirvi solo questo dato ma come era fatto era un po' come la nostra bianchina direi ancora più sfigata Prince NSU va bene allora anche le idee sono fonti di ricchezza se condivido su Twitter una canzone qualcosa di classico magari a me piace Strauss anche se come cantante non era un granché e la commento e poi ne condivido un'altra e rispondo a quelli che dicono che Gigi D'Alessio è meglio alla fine cosa guadagno niente cioè il valore di Strauss come cantante ma se condivido dieci canzoni e le commento e poi rispondo ai commenti degli altri sempre fan di Gigi D'Alessio tipo Hegel che a me non mette mai neanche un mi piace ma per invidia perché non lo tagga nessuno è vero è vero è vero ho detto bene si dice tagga tagga alla fine cosa ci guadagno niente lo stesso e nel frattempo Strauss non ha nemmeno imparato a cantare mentre Gigi D'Alessio ha già cantato altre dieci canzoni sempre che quello di Gigi D'Alessio si possa davvero definire cantare è questo è questo è un dubbio che ci teniamo che ci teniamo allora io io signor Carlo la voglio in qualche modo andiamo verso il finale ringraziare le sue considerazioni sono state per me ma credo per tutta la platea illuminanti però vorremmo che ci lasciasse con un ultimo pensiero prima del saluto definitivo ecco cari amici e compagni per quelli che ancora di voi lo sono rifacciamo il comunismo eccoci ma si dai riproviamoci che magari stavolta viene meglio si lo ammetto molte cose tratte dei miei libri non hanno funzionato come speravo però scusatemi non per questo ho stato lì a considerare una tragedia per l'umanità i libri di Fabio Volo del resto io non ho mai voluto essere profeta e fare il profeta ho ripetuto fino alla nausea la frase non do ricette per la cucina del futuro questo non è tweet questo è Marx certo ebbene il muro di Berlino non è certo crollato per un'infiltrazione d'acqua tuttavia sono convinto che il comunismo fosse una buona idea e che si possa ritentare basta solo fare più attenzione per esempio basta mandare la polizia politica nelle case a vedere pure se il proletariato separa i bianchi dai colorati per scoprire i nemici della rivoluzione ora è sufficiente vedere se pubblicano frasi su internet tipo o album fotografici tipo è statissima con i Contras presso campo di addestramento C a Washington D.C. e poi dobbiamo imparare dagli errori del passato se i cani e le scimmie andavano sulle navicelle spaziali perché il proletariato andava sulle Trabant ma c'era la corsa allo spazio e adesso qualcuno se ha il coraggio venga a dirmi in quale edizione del Capitale ho detto che bisognava conquistare l'universo posso recitarle piuttosto e recitarvi una poesia dedicata alla vecchia Trabant un'altra poesia ma il comunismo erano poesie o teorie socio-economiche forse anche poesia poesia anche prego sul nome di un'utilitaria della DDR che in tedesco significa satellite satellite di un sistema solare che si disfa di un nucleo che decade libera particelle e perde le sue perle dai fili di orbitali chicchi di un ticchettio che grandinano brillano sugli asfalti occidentali Trabant rosa beige verde pastello carozzine due tempi tintinnanti tra piccoli azzurrini trine tremole Trabis patrie portate le gingilli di una classe fossile stilizzata scatolette di latta in cui si accalca una trepida dolce borghesia comunista reperti minerali auto di topolino che fuggite dal vostro pifferaio assassino ben arrivati ben arrivati ad Hammel BRD è chiaro bellissima anche questa e questo però me lo dica è baricco lei è Fabio Fazio sono Fabio Fazio sono Fabio Fazio sono Fabio Fazio ma non credo che lei lo conosca insomma come dicevo rifacciamo il comunismo abbiamo perso Livorno non so volevamo colonizzare mica Plutone insomma il diavolo sta nei dettagli e se oggi tanti preferiscono ammettere di leggere solo Fabio Volo piuttosto che essere stati comunisti forse un motivo ci sarà e allora voi che siete più bravi di me con internet navigatori di tutto il mondo unitevi internet da quello che ho capito è uno spazio aperto e libero a disposizione di tutti ma non è un mondo a sé è una parte del mondo in cui viviamo il capitalismo ha creato tanti piccoli giardinetti recintati in cui occorre pagare un prezzo per entrare in alcuni casi il prezzo da pagare siete voi è la vostra vita è il prezzo della vita non è contrattabile allora ripendetevi quegli spazi riapriteli fate una rivoluzione insomma e magari iniziate ad ascoltare un po' di canzoni decenti difendete i vostri spazi che qualcuno ha fatto diventare una proprietà privata se li lasciate fare penseranno persino che sia giusto che alcuni paghino per farvi arrivare più velocemente i loro contenuti invece dei contenuti di chi non può pagare e soprattutto non smettete mai di pensare e di fare domande a chi vi vuol vendere tutte le domande e tutte le risposte mi sento e da gli est no scusate ho prenduto la no no il finale l'inizio dall'inizio lo vuoi gran finale gran finale gran finale l'inizio lo vuoi l'inizio lo vuoi l'inizio lo vuoi l'inizio lo vuoi Grazie di cuore Grazie Adesso permettetemi di dire due parole come Bonio Vadia Mi sono prestato volentieri a questo gioco su Karl Marx Prima di tutto perché Karl Marx era un uomo molto spiritoso Questo pochi lo sanno La grande disgrazia di Marx sono stati i marxisti Karl Marx era un uomo dotato di grandissimo senso fiumor Pensate che scriveva a Engels Se si legge tutto il carteggio si trovano delle chicche Una delle lettere fu Caro Friedrich grazie per l'invito a cena Ti prego di mettere alla mia destra Tutti i tuoi ospiti più noiosi Perché da quel lato sono completamente sordo Un'altra cosa straordinaria a sua Era che una volta a suo genero la Farg Gli mandò una bozza per il programma del partito socialista francese Socialista di allora Chiedendo a Marx di predigere un manifesto Un documento di organizzazione, una proposta Marx diligentemente redasse la proposta e la spedì Poi naturalmente i socialisti francesi la manipolarono a modo loro E la rispedirono a Marx per approvazione Marx rispose con un telegramma di questo tono Ah sarebbe così? Allora io non sono marxista Per dirvi era un uomo davvero spiritoso Coltissimo, immensamente colto Conosceva la Divina Commedia a memoria Shakespeare a memoria Era un essere umano straordinario E rimane il più grande pensatore sociale di tutti i tempi Io ho accettato di fare questa cosa Ma ve lo dico con molto orgoglio Il ritratto di Karl Marx è appeso Dietro la mia scrivania E ho detto a mia moglie una volta Questo scende quando io muoio E mia moglie che è una donna di valore Mi ha detto No, quando io muoio È più giovane lei Bene Quindi giochiamo con Marx Ma ci inchiniamo davanti Alla maestà del suo pensiero E che sia stato il più grande pensatore sociale di tutti i tempi Non lo dice Moniovadia che conta meno del 2 di picco Ma l'hanno detto anche economisti reazionari e conservatori Come Vilfredo Pareto e Schumpeter Quindi questo è Sarà, rimane un gigante fra i più grandi Che abbiano calcato il suolo di questa pianeta E noi possiamo giocare col suo pensiero Perché in fondo al mio cuore Io sono convinto Che lui alla fine Si sarebbe divertito molto Ogni bene a tutti voi Guardiamo verso gli orizzonti del futuro Perché il presente fa decisamente schifo Tiriamoci sul morale Grazie Grazie a tutti Arrivederci Grazie compagno Grazie a tutti Volevo dirvi Che ci ho anche appeso la foto di quello delle magliette Grazie a tutti Grazie a tutti